Alla scuola basket e la stagione agonistica inizia a tavola, in questa magica e storica location, inizia con il presidente Mauro Castelli, con questa conviviale per presentare tutte le formazioni. Nonostante le difficoltà enormi che abbiamo trovato con questo evento che ci ha ovviamente travolto nel mese di luglio, nonostante questa situazione, innanzitutto dobbiamo ringraziare il Comune che ci ha permesso di ritornare momentaneamente nella nostra vecchia sede, che comunque ormai conosciamo bene e nonostante queste difficoltà abbiamo voluto continuare non solo ad andare avanti, ma di crescere non solo dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista sportivo, facendo anche degli investimenti sulla qualità e sull'innovazione degli allenatori. Tutto questo in un clima difficile perché potrei comprendere la difficoltà che abbiamo avuto in questi periodi. L'abbiamo lavorato tutto luglio e tutto agosto per poter arrivare a una condizione che ci permettesse di poter andare avanti sempre e comunque abbastanza bene. L'abbiamo lavorato tutto ugualmente.